Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti do il mio parere su Aetherfields, ultima fatica dell'Awaken Realms. Questo è un video assolutamente no spoiler per evitare ovviamente di darti dei dettagli che riguardano questo gioco. Cercherò di parlartene il più estensivamente possibile senza ovviamente darti quei dettagli che potrebbero spoilerarti campagna o scoperte varie. Innanzitutto che cos'è questo gioco? Questo è un gioco cooperativo. Loro hanno voluto definirlo Dreamcrawler, che è un'unione di due parole e concetti. Dream, ovviamente sogni, Crawler viene da Dungeoncrawler, che è un genere di giochi che per esempio possono essere Gloomhaven o per gli anziani come me HeroQuest, Descent. Giochi in cui ci sono dei personaggi che vengono migliorati, salgono di livello, devono attraversare delle avventure in dei dungeon oppure in delle città, ci siamo capiti. Loro quindi hanno unito questi due concetti, il Dungeoncrawler e i sogni, creando questo Dreamcrawler, perché noi siamo dei personaggi non meglio definiti, che viaggiano attraverso questo mondo del sogno e devono cercare di scoprire chi sono, perché sono lì, che cosa è successo. Infatti il gioco inizia con zero informazioni. Noi siamo una tabula rasa e dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo attraversando questo mondo del sogno. Giostreremo la nostra partita spostandoci attraverso delle città molto particolari e all'interno di sogni specifici per cercare di scoprirne i vari misteri. Nel mentre cercheremo di potenziarci, principalmente migliorando il nostro mazzo, quindi c'è una sorta di deck building. Noi partiamo con un mazzo, ogni personaggio ha il suo e può essere migliorato aggiungendo o rimuovendo determinate carte. Ma adesso ne parliamo seguendo la mia personale classifica di cose che secondo me un gioco dovrebbe avere. Partiamo dai buoni componenti. I componenti sono sicuramente di ottima qualità. La Wiccan Realms comunque con i componenti sicuramente fa sempre centro, a partire ovviamente dalle miniature che già come puoi vedere sono enormi, davvero dettagliate, veramente bellissime. Le carte sono di buona qualità, i vari componentini, tessere, tesserine, le planche, tutto veramente di buona qualità, belle, consistenti. L'inserto diciamo che è comodo, però se metti le bustine protettive e le carte, le carte non ti rientreranno mai più nella scatola. E questa cosa sinceramente non ha assolutamente senso. Per quanto riguarda la grafica, la grafica è per la maggior parte molto scura. Ci sono dei sogni in cui siamo un po' più allegri, commettiamola così, ma per il resto è una grafica molto scura. A mio avviso sono stati fatti un pochino di errori proprio di design, a partire dal tabellone che come puoi vedere è storto, dovrebbe essere girato così. Ma purtroppo, a parte che potrebbe non entrarti nel tavolo, è proprio scomodo a livello ergonomico. Perché qui hai la mappa cittadina, diciamo, e qui hai la mappa dei sogni. Se sei seduto da quella parte del tavolo, qui non vedrai assolutamente niente. Viceversa, se sei di lato, sei storto. Infatti è stata mossa un'enorme critica a questo tabellone, e ne stanno facendo uno in forma orizzontale. In modo da poter soprattutto vedere i dettagli che ci sono nei sogni, perché sono molto importanti e molto piccoli. Come puoi vedere, occupa veramente tantissimo spazio, che poteva a mio avviso essere davvero ridotto. Tutta questa parte centrale qui serve solo per tenere le carte, che si potrebbero tranquillamente organizzare fuori dal tabellone. Queste plance sono essenzialmente solo di abbellimento, perché non hanno nessuna funzione. Quindi c'è tanto spazio occupato inutilmente. La grafica, comunque, è molto bella. Quando la puoi vedere da vicino, la puoi ammirare, guardi tutti i piccoli dettagli delle carte, delle tessere, delle tesserine. C'è stato fatto davvero un grosso lavoro di dettaglio. Però ecco, un po' difficile andarle a vedere, capisci? Quando sei dall'altra parte del tavolo. E poi le carte, anche a questa distanza, sono un po' piccine. Se vuoi veramente vedere bene un dettaglio, alla fine la devi prendere in mano. Spezzando anche un pochino il disegno che creano. Tema legato alle meccaniche. Ora, il tema è quello che mi ha assolutamente attirato di più. Perché, nonostante io non prediliga granché i giochi cooperativi, figuriamoci dungeon crawling, la questione del sogno a me interessa tantissimo. Mi ispira molto. E quindi ho detto, beh sì, questo deve essere davvero un gioco interessante. Tematicamente, tu all'inizio del gioco non sai assolutamente nulla. Sai che sei nel sogno, sai che devi capire chi sei, sai che devi esplorare. E tutto quanto si scopre nel mentre. Ora, non ti posso ovviamente fare spoiler. La storia si svolge piano piano, soprattutto poi andandola a leggere qui, nel enorme libro delle storie, dove ci sono tutti questi trafiletti che tu vai a leggere. e scopri i dettagli del sogno in particolare, dettagli anche di quella che è la tua di storia. Per quanto riguarda le meccaniche, di meccanica questo gioco è davvero povero. Perché noi tendenzialmente utilizziamo il nostro mazzo di carte per fare le azioni. Ovvero, muoversi e interagire con l'ambiente. Che può essere parlare con qualcuno, può essere combattere con qualcuno, può essere scoprire delle cose per raggiungere carte o tessere, proseguire. Ci sono anche delle azioni nelle carte, che però sono molto circostanziali. Perché anche se tu riesci a prendere una carta e aggiungerla al tuo mazzo, la questione di deck building, una carta molto forte, tieni presente che dovrai riuscire a pescarla nel momento giusto proprio in cui ti serve per poterla utilizzare. Quindi le meccaniche sono molto povere. Io penso che le abbiano semplicemente integrate al gioco per farti vivere questa avventura molto particolare. Poi ci sono tante piccole meccaniche che si aggiungono anche di sogno in sogno. Cioè, quando tu inizi un sogno, vengono aggiunte delle piccole meccaniche che non ci sono magari negli altri. Quindi quasi come un legacy, si aggiungono delle piccole meccaniche di volta in volta, che però sono proprie di un sogno, non te le porti appresso. Quindi non c'è anche quella sensazione di troppe regole che si aggiungono di volta in volta. Vengono presentate delle regole ogni sogno e te le gestisci per quel sogno. Questo gioco è troppo dispersivo? Ora, essendo un gioco tendenzialmente sandbox dove tu puoi fare un po' di tutto perché non hai un vero obiettivo, perché non sai assolutamente chi sei e che cosa sta succedendo, vero è che tu hai questi, diciamo, mini obiettivi che sono poi i sogni. Ne avrai anche 4 o 5 contemporaneamente e dovrai scegliere dove andare e quale affrontare. Quindi diciamo che questi ti indirizzano un pochino. Quindi dispersivo non direi. Questo gioco è adatto a tutti i tipi di esperienze? È un cooperativo, quindi l'esperienza agisce nel senso di sono un giocatore che ha già affrontato la campagna? Non vedo perché devo rifarla con giocatori nuovi. Magari sì per vedere quali sono le loro reazioni? Sono anni che non lo gioco? Potrebbe darsi. Però ho comunque dei grossi vantaggi rispetto a loro, anche perché mi ricordo determinate cose, non ho la sensazione della scoperta che si ha di solito in questi giochi a campagna dove si scoprono le cose man mano. Quindi c'è differenza in questo senso. Regolamento comprensibile, schede di riferimento veloce e simboli chiari. Il regolamento è un vero disastro. Credo che non l'abbiano neanche letto una volta che è stato scritto. Ho fatto leggere da altri che non conoscevano il gioco perché è veramente buttato lì tutto a caso. Tant'è vero che lo stanno riscrivendo da capo. Hanno fatto un tabellone completamente sbagliato, un regolamento che non si capisce, e adesso la community gli ha chiesto di rifarli da capo. E verranno dati, suppongo, in pdf. O forse magari verranno dati in seguito fisicamente, però per adesso so che li hanno resi disponibili in pdf. E tra l'altro stanno anche realizzando un tutorial per il gioco, per renderlo un pochino più fruibile. Il regolamento, ti dicevo, è fatto davvero davvero male. È difficile cercare di capire il gioco leggendo il regolamento. Tra l'altro nel gioco c'è un tutorial. Ti introduce al gioco, però il tutorial prevede che tu abbia letto il regolamento. E il regolamento prevede che tu abbia fatto il tutorial. Quindi vedremo come andrà con la nuova iterazione del regolamento. Difficile quando hai un dubbio, infatti, andarlo a cercare sul regolamento. È stato proprio un dramma all'inizio. Per quanto riguarda i simboli, ce ne sono tantissimi, però la cosa positiva è che non sono tanto difficili e vengono comunque inseriti man mano, piano piano, e ti vengono spiegati un pochino alla volta. Quindi qui hanno fatto un buon lavoro. Il gioco non è indipendente dalla lingua, perché c'è testo ovunque, su tutte le carte e soprattutto sul libro delle storie, c'è bisogno di una buona conoscenza dell'inglese. Non è localizzato in italiano e non so se verrà mai localizzato in italiano. Casualità bilanciata al determinismo. Questo, da buon gioco American, è molto casuale. Cioè pesca di carte di continuo e lancio di dadi. Dove magari la pesca di carte non può tanto stravolgerti quello che succede in partita, a parte alcuni casi, il lancio dei dadi sì. Può capitare che per un lancio del dado ti vada a monte un sogno e dovrai rifarlo da capo. Tra l'altro questa è una cosa che ti capiterà spesso, dover rifare più volte i sogni, anche perché ci sono un determinato numero di round dentro il quale devi fare i sogni, quindi anche un pochino di pressa. La casualità influisce molto in questo gioco e alle volte può dare anche fastidio. Curva di apprendimento. Lasciando da parte il regolamento che è un dramma, le regole non sono tante neanche difficili, quindi apprenderlo, con un buon regolamento, non è difficile. Tra l'altro vengono aggiunte piano piano tante regole, però sono regole che magari sono proprie di un sogno, quindi poi non te le devi portare appresso, quindi non hai questo carico di regole, come ti accennavo prima. Quindi diciamo che tendenzialmente è un gioco facile da apprendere. Per quanto riguarda la durata delle partite, la decidi tu fondamentalmente, perché è un gioco a campagna, è un gioco dove tu, quando vuoi, ti fermi, salvi e poi riprendi la volta dopo. Puoi giocare mezz'ora, un'ora, due ore, tre ore, quello che vuoi tu. Ovviamente più giocatori ci sono e più il gioco si allunga. Tra l'altro il metodo di salvataggio di questo gioco credo che sia il migliore che abbiano fatto fino ad adesso alla Wicked Realms, veloce da preparare e anche da salvare. Interazione, essendo un gioco cooperativo, è un gioco molto interattivo, perché si discute, si parla insieme, si fanno le azioni insieme, magari io vado di là, tu vedi là. Anche se, quando si è nella mappa generale, ci si muove come un'entità unica, mentre invece nel sogno ci si può anche dividere. Ci saranno sicuramente due scuole di pensiero per quanto riguarda la scalabilità di questo gioco, ovvero, sì, il gioco scala, bene o male, ma nel senso, è meglio giocarlo in solo, è meglio giocarlo in due, in tre, in quattro. Come è capitato anche per This War of Mine, e in Tainted Grail, dipende molto da te. Va benissimo in solo, va benissimo in due, in tre, in quattro. Dipende dal tipo di gioco che vuoi tu, dall'interazione che vuoi tu, e da quanto ti piace comunque godertelo con gli altri giocatori. Variabilità al setup. Ora, qui non c'è una vera e propria variabilità al setup quando tu prepari il gioco di volta in volta, piuttosto è una variabilità generale durante tutta la campagna, perché tu più vai avanti, più scopri cose da aggiungere e più si crea, no? Variabilità. Vero è che una volta che hai finito la campagna, non vedo il motivo per rifarla di nuovo, se non magari dopo che sono passati anni e ti sei dimenticato tutto quanto. Sì, durante la campagna non scoprirai proprio tutto, tutto, tutto. Però rifarlo da capo per andare a ritrovare quelle piccole cose che ti sei perso? Difficile. In definitiva, che cosa penso di questo gioco? Un gioco con un tema molto interessante e originale che speravo però potessero sviluppare un pochino meglio. Speravo potesse essere un pochino più coinvolgente anche a livello delle storie che dopo un po' sono forse un po' ripetitive. A livello di componenti sicuramente ottimi, a parte l'ergonomia che, come ti dicevo, il tabellone e le plance totalmente fuori luogo, infatti stanno già ponendo rimedio. È un gioco che ovviamente devi tenere presente a tanta casualità, quindi le cose ti possono andare all'aria da un momento all'altro, però ovviamente tu lo sai dall'inizio che è così. È un gioco American, d'altronde. È un gioco che puoi immaginare come tante piccole escape room. I sogni li puoi immaginare come se fossero delle piccole escape room. E se ti piace ovviamente quel concetto, questo potrebbe essere proprio il gioco che fa per te. Ora, c'è un piccolo dettaglio, qui andiamo un pochino nella zona spoiler. Quando sei in un sogno, ti fai il sogno, cerchi di farlo entro un determinato numero di round, scopri determinate cose, vai avanti con la storia, piccoli dettagli. Quando invece ti muovi sulla mappa generale, essenzialmente tu ti muovi per cercare di ottenere queste chiavi che ti servono per entrare nei vari sogni. Nel farlo ti troverai molto spesso a combattere in questi slumber, che sono dei piccoli sogni in cui tendenzialmente tu devi affrontare degli incubi. Alcuni possono essere comunque saltati. Devi affrontare questi incubi, queste situazioni che spezzano davvero tanto il gioco e lo rallentano sensibilmente. Probabilmente li avrei resi un pochino più semplici e sbrigativi, perché allungano semplicemente il brodo, secondo me. E questo è tutto. Io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettili nei commenti e risponderò appena possibile. Se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina, così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica. Io sono Flavio, il Meepol con la camicia e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.